È un evento per noi Unione Camere Civili molto importante a cui tenevo particolarmente e sullo stare decisis, la vincolatività del precedente, la discrezionalità del giudice. Credo che sia una evoluzione del nostro diritto che può consentire anche delle limitazioni e continui ricorsi che vengono fatti e anche delle decisioni che devono essere prese per avere un minimo, non in tutti i cambi, ma di certezza del diritto con un parterre di relatori importante e quindi mi auguro che sia un evento seguito e sia un evento molto partecipato.